mai come adesso a mio avviso ci sono delle occasioni che non rivedremo più si vada a pensare per esempio ad un petrolio i prezzi che sta battendo adesso 22 dollari al barile per poi andare a vedere tutto in ottica intermarket ecco questo signori voi potete notare che a 23 dollari e 21 chi ci guadagna da qui? Arabia? Esatto noi dobbiamo sfruttare i grafici e dobbiamo vedere dal punto di vista fondamentale quello che veramente succede quello che c'è dietro faccio sempre una domanda perché quello che dobbiamo sempre capire è che dietro i prezzi degli strumenti finanziari ci sono degli interessi enormi chiaramente qui dietro il prezzo del petrolio ci sono degli interessi enormi ci sono degli sgambetti internazionali da parte della Russia verso gli Stati Uniti ci sono dei giochi di potere incredibili però e Alex adesso ti chiedo un tuo parere a mio avviso non ha senso un prezzo del petrolio così basso perché non fa bene a nessuno esatto quando come ben detto te quando non fa bene a nessuno chi ci guadagna? senz'altro non spingiamo le quotazioni a ribasso né io né i trader retail che lo spingono short è normale che i vari fondi i vari fan stanno iniziando a capire cosa c'è dietro fondamentalmente se noi vogliamo fare i tecnici a guardare il prezzo buono 20 ma io credo che massimo massimo sul 17 dollari al barile lì signori sia un'occasione che come lo posso definire come il bitcoin dell'anno assolutamente perché nessuno ci guadagna la Cina non ci guadagna l'Arabia avrà un dollaro di scarto la Russia no l'America no signori chi pensate spinga il prezzo a ribasso quindi ci sarà uno spike violento e questi prezzi non li vedremo per tanto tempo poi ci sono quelle persone che dicono vabbè sta iniziando a svilupparsi l'energia elettrica ma parliamo sempre dell'oro è esattamente ancora Alex cioè teniamo presente che ti dico io ridendo nelle scorse settimane ho detto scoperto il motivo per cui è crollato il prezzo del petrolio non accendo la mia Porsche da una settimana ed è vero il calo del petrolio è dovuto anche a un calo della domanda però ricordiamoci che siamo ben lontani dall'esda dall'abbandonare un'economia basata sugli idrocarburi quindi assolutamente contiamo lo abbiamo già detto anche in altre occasioni che il prezzo medio di estrazione del petrolio negli Stati Uniti è di 40 dollari esatto quindi Luca possiamo dare anche dei livelli dei livelli tecnici per chi vuole magari anche iniziare a ad accumulare ad accumulare certo poi ovviamente con la piattaforma si può iniziare ad accumulare dei cipettini ecco tra l'altro in tanti ci state chiedendo poi ti lascio dare i livelli tecnici Alex ma in tanti ci chiedono ma come si fa a comprare il petrolio ragazzi per comprare il petrolio l'ideale è proprio la piattaforma di Kimura perché addirittura su questo strumento che vedete in questo momento non andate a pagare nemmeno il funding perché è proprio un contratto future grazie a tutti 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 Grazie a tutti.